Manca sul nostro territorio un'agenzia unica del turismo, lo ha dichiarato il presidente del parco ai nostri microfoni. L'ente sta lavorando con Feder Travel per un accordo che permetterà di mettere in rete tutte le agenzie turistiche del comprensorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Dalburni. Feder Travel è un accordo che abbiamo fatto per cercare di stimolare e mettere insieme un po' tutte le agenzie del turismo e del territorio per far creare un'armonia anche un po' in un settore importante come quello del turismo. Qui nel nostro territorio manca un'agenzia del turismo unico, ma non un'agenzia intesa come un'agenzia che vende i pacchetti, ma un'agenzia che idea, programma, attività. Allora abbiamo cercato di venire incontro a questo problema, a questa mancanza, facendo mettere insieme un po' il maggior numero di agenzie di viaggio possibili per farle ragionare quantomeno in modo unitario e avere anche un interlocutore più unitario possibile per mettere in campo iniziative e attività chiaramente come parco. Altra iniziativa alla quale il parco sta lavorando è quella di realizzare una banca dati dell'idea di futuro del proprio territorio da parte di giovani professionisti che vivono nel territorio del parco e non solo. Il progetto prevede la partecipazione di 100 giovani under 35 che riusciranno a lanciare idee progettuali sullo sviluppo della propria terra valide per il territorio e che in futuro potrebbero diventare progetti concreti. L'iniziativa del parco darà anche l'opportunità di vincere una borsa premio di 1000 euro. Abbiamo chiesto delle idee progettuali, non dei veri e propri progetti, questo ha fatto bene a farmi questa domanda per precisare un po' di cose. Idee progettuali, abbiamo voluto dare a queste idee progettuali realizzate da chi? Da giovani professionisti under 35 del territorio, ma non solo del territorio devo dire, cioè che mettessero in campo idee progettuali pensando al futuro del territorio del parco nazionale del Cilento, parliamo di Alburni. Cioè vogliamo costruire la più grande banca dati dell'idea di futuro che hanno i giovani professionisti della loro terra. Ed è la terra che i mari amano, perché anche chi fa un progetto da fuori vuol dire che la conosce questa terra, vuol dire che comunque ha un interesse particolare o che la ama per qualsiasi tipo di motivo. E poi è chiaro che se si realizzano i progetti, quei progetti noi ci auguriamo che se ne realizzino tanti, verranno coinvolti i giovani che li hanno ideati, però abbiamo voluto mettere in campo e dare anche una borsa premio di 1000 euro a ogni idea progettuale, proprio per dare in un momento anche particolare come questo, dove è tutto fermo. Allora io dico, noi diamo anche un segnale di attenzione ai nostri giovani, il parco c'è, vi dà un segnale di attenzione, in questo momento particolare abbiamo anche più tempo per ideare, per pensare. Quindi ideiamo e pensiamo anche al futuro, pensiamo anche alla terra nella quale viviamo, pensiamo a quale idea di futuro abbiamo del parco nazionale del Cilento, ecco abbiamo fatto esattamente questo e io penso attraverso i 100 progetti che avranno le borse studio saranno delle idee progettuali, idee progettuali, ripeto, che certamente ci potranno far capire anche a noi che pensano i giovani della terra nella quale vivono e soprattutto quali idee hanno loro di sviluppo di una terra. Ecco questo è quello che abbiamo voluto fare, io penso che sia una delle iniziative alle quali sono più legato, più belle, perché rende i giovani realmente protagonisti, li mette al centro, li mette al centro dell'attenzione. Poi quando qualcuno fa anche la polemica a serie dicendo ma poi noi abbiamo scritto che la proprietà intellettuale delle idee del parco, beh è ovvio, nel senso che l'idea intellettuale significa che quel progetto il parco lo può promuovere, lo può mettere in una banca dati, ma è un'idea progettuale, non è un progetto, noi non stiamo rubando professionalità, non è che stiamo rubando progetti a basso costo, stiamo facendo sviluppare idee progettuali, ma invece di farlo gratuitamente diamo anche una borsa studio per incentivare anche i giovani in un momento di difficoltà. Quanti sono i giovani professionisti che magari sono laureati da poco e che purtroppo per l'emergenza Covid che stiamo vivendo non hanno una prospettiva immediata di futuro, di lavoro? Allora diciamo andate, in questa fase transitoria noi vogliamo farvi sentire darvi uno spiraglio anche di fiducia, perché magari da quell'idea progettuale un domani può venire fuori un lavoro, può venire fuori un'attività lavorativa, perché noi poi cercheremo anche di pubblicare le idee progettuali e magari qualche imprenditore può cogliere quell'idea e chiedere appunto che quel ragazzo possa andare a svilupparla nella propria azienda, ecco questo è quello che abbiamo cercato di fare, quando diciamo il territorio che diventa, il bello che diventa utile, il territorio che diventa opportunità, è questo, queste sono le iniziative da mettere in campo, io mi indigno molto quando vedo tante chiacchiere e poche cose realizzate e su questi temi c'è il maggior numero di chiacchiere, chiacchiere infiniti, si progetta, si progetta, si progetta, poi andiamo a vedere chi sono coloro che hanno progettato, sempre gli stessi, andiamo a vedere le cifre, e a volte sono cifre anche importanti, beh io dico basta, ogni tanto facciamo qualcosa un po' di diverso, per carità vanno bene tutte le progettazioni del mondo, però oggi dobbiamo essere anche un pochino più pratici, più concreti e rendere veramente protagonisti i nostri giovani.